Raccontatemi la vostra attesa del cento vinesimo giro d'Italia Abbiamo iniziato questa mattina presto a doppare il paese con palloncini, fiocchi e vari standardi Sì, questa bella rotonda ma giù in fondo c'è tutto il decoro che abbiamo preparato Siamo qui ad aspettare il giro, speriamo negli italiani oggi, finalmente E poi abbiamo comprato la mano Ma l'italiano ce n'è solo uno però Speriamo il Pozzo Vivo allora Viva Pozzo Vivo quindi? Viva Pozzo Vivo